Per il terzo anno consecutivo Papa Francesco ha deciso di sostenere l'associazione abruzzese History Life Onlus attraverso la donazione di uno zucchetto, lo vedete, indossato dal pontefice. La donazione è venuta a pochi giorni dalla visita del Santo Padre all'Aquila allo scopo di rinnovare i progetti di beneficenza, tra cui le borse di studio per contrastare la dispersione scolastica e aiutare la comunità capanna di Betlemme di Chieti, Papa Giovanni XXIII.